Questo nuovo negozio è stato pensato proprio anche in funzione del servizio che ormai da anni facciamo e del servizio catering che funziona molto per feste a casa, feste di anniversari, matrimoni, compleanni, momenti di festa da fare in casa però senza l'impegno di dover preparare tutto da soli. Siamo qui per darvi una mano per farvi fare bella figura se la fate voi, la facciamo anche noi. Questo è quello che vogliamo fare e qui in negozio troverete un po' di spunti proprio in quella direzione. Grazie.